Come funziona l'autorimplimento di Excel? Quando noi selezioniamo una cella, in basso a destra troviamo un quadratino verde. Ebbene, quando lo selezioniamo e trasciniamo, otteniamo la ripetizione dell'informazione. Se abbiamo un numero e otteniamo premuto il tasto CTRL, quando trasciniamo otteniamo un incrementale, quindi con CTRL cambiamo il modo con cui funziona. Se invece seleziono ad esempio l'1 o il 3 e vado praticamente a trascinare, ottengo un incrementale saltando il 2, perché Excel ha capito quello che volevamo fare. Con gli alfanumerici selezioniamo ad esempio queste tre lettere, quando trasciniamo ciclicamente lui ripeterà l'informazione che abbiamo selezionato. Con le informazioni di tipo data è più intelligente, quando trasciniamo lunedì e martedì lui crea tutti i giorni della settimana perché è un'informazione di tipo data. Possiamo fare anche con le date, con i mesi e così via. Qui abbiamo alfanumerici e numerici, quando trasciniamo lui comunque fa un incrementale del numero. Possiamo farlo anche con le formule, trascinando la formula verso il basso, oppure facciamo un doppio clic sul quadratino e la formula verrà trascinata fino in fondo alla tabella in automatico.